un saluto dall'ultimo giorno della gmg fatto dal pullman con i nostri ragazzi il papa ci ha detto come si fa a riportare a casa l'esperienza bella della gmg e ci ha dato tre parole la prima è brillare e ci ha ricordato che l'unico vero brillare che esiste è quello di dio a volte noi si vuole brillare curando la nostra apparenza sui social oppure mettendo in mostra i nostri risultati ma l'unico vero modo di brillare e fare il bene fare le opere di dio la seconda parola ascoltare ascoltare il vangelo leggerlo conoscerlo perché la parola di dio è una parola di vita eterna una parola di babbo una parola di padre d'amore di babbo nei nostri confronti e la terza parola che ci ha dato il papa e non temete non abbiate paura ripreso ovviamente dal vangelo ma per noi che abbiamo qualche annetto sappiamo bene che questo è stato uno dei grandi messaggi di giovanni paolo secondo non temete non abbiate paura il messaggio dato ai giovani e non temete non abbiate paura di provare a cambiare il mondo perché il mondo è nelle vostre mani non abbiate paura di impegnarvi di mettervi in gioco per le sfide di oggi non abbiate paura e andate avanti giovani